Huawei discovery è un po' l'avventuroso di casa Huawei, resiste agli urti ed è certificato IP57, impermeabile fino a un metro sott'acqua per 30 minuti, ha a disposizione una bussola integrata per gli amanti dell'avventura e della vita all'aria aperta e una torcia. Telefono UMTS con tecnologia dati high speed, permette di scaricare fino a 7.2 MB, GPS per la localizzazione, Wi-Fi, Bluetooth, accesso ai principali social network in un design abbastanza sottile e carino per il suo settore.